Per la provincia di Foggia e per la regione Puglia questa è una giornata estremamente importante perché il gruppo Manta, manifatture e tecnologie di elevata qualità, rappresentano la capacità di fare impresa in questo pezzo di mezzogiorno. Sicuramente è un grande giorno di festa per un gruppo coeso, forte, che viene dai Monti Dauni che hanno saputo prendere a cuore il territorio foggiano e in particolare tutta la Capitanata, hanno saputo sviluppare un settore delicato e soprattutto molto tecnologico, di questo la politica deve essere fiera. Una parte da non considerare perché quando un'azienda si trasferisce dalla Lombardia, quindi da Milano, nel nostro territorio in Capitanata dove le condizioni di sviluppo delle aziende sono condizioni difficili, allora la scommessa è doppia, quindi abbiamo una scommessa di una generazione che si è creata e costruita nel passato che vuole crescere e svilupparsi nel nostro territorio. Le aziende italiane devono puntare prima di tutto sulla competitività, perché oggi puntare sul low cost è una strategia suicida per le nostre aziende, dobbiamo puntare sulla qualità e sulla competitività, quindi su quello che viene chiamato value for money. Noi non dobbiamo essere economici, ma dobbiamo dare dei prodotti che danno dei vantaggi tali che consentano al cliente di giustificare il costo di quel prodotto. Fino ad oggi io ho operato con quelle che erano le possibilità, nascendo da zero, per far sì che l'azienda potesse crescere quantomeno territorialmente. Sono andato anche un tantino oltre, andando oltre i confini della provincia, oltre quelli regionali per poi essere entrato qua. Oggi l'obiettivo è quello di andare ad operare sul pianeta Terra. Avendo le forze giovani, avendo loro maturato una sorta di capacità, di conoscenze, di formazione di tipo menageriale industriale, avendo io quel po' che ho di esperienza aziendale da mettere a loro disposizione, ove mai dovesse servire e ove mai loro me la dovessero chiedere, io sono a disposizione per cui il prossimo obiettivo è sfidare tutto il resto che ci circonda per posare le ali su nuovi obiettivi, quali sono quelli dell'Europa, quelli degli Stati Uniti, quelli degli Emirati Arabi, perché solo diversificando e ampliandosi c'è la possibilità di... Manta Group. Supplying Excellence.